Salve a tutti, sono Micweb del forum. Volevo fare un piccolo tutorial su una cosa molto interessante che ho visto in uno di questi giorni. Uno dei miei tanti hobby è anche la fotografia. Cosa ho visto? Su Flika c'era un concorso dove si poteva postare delle foto riguardo fiori. Un ragazzo ha postato un fiore di fuoco. Bellissima immagine, stupenda. Però mi ha un po' insospettito. Ha detto che ha fatto lui la foto con Photoshop e tutto il resto. Mi ha un po' sospettito e ho scoperto che su internet c'è la possibilità di controllare l'origine delle immagini. Non è la normale ricerca di immagini di Google che tutti conoscono, ma se digitate qui in alto google.it, poi imghp, arrivate a questa pagina qui. Google immagini. La funzionalità di questo sito è molto interessante. Potete caricare un'immagine che avete sul vostro computer. La faccio vedere. Questa è la foto che ho scaricato che mi ha sballordito. La carico. Ho un attimo di pazienza. La carico e la cerco. La cerco in internet. Questa funzione di Google mi cerca esattamente la stessa immagine. Per vedere se questa immagine è stata usata più volte. Guardo qui, immagine qui, poi vedo la stessa immagine su un altro sito. Dopo vedo qui ci sono molte pagine. Altri... Sempre la solita immagine si può comparare da altre parti. Insomma, questa immagine è un fake. Cosa succede in internet? La gente pensa di essere così furba e per mostrarsi di essere capace a fare qualcosa copia le immagini da altri siti e le posta su Facebook o su concorsi o su Flika e dicono questa immagine l'ho fatta io ore e ore e ore di lavoro. Ecco, cari ragazzi, o meno, ormai in internet non serve a niente copiare. Copiare e postare i lavori di qualcun altro. Perché, come vedete, c'è sempre qualcuno più furbo di voi e con questo utilizzo di questo sito si può verificare quella foto in questione che la faccio vedere che è una foto meravigliosa, impressionante e non è... Insomma, è vecchietta ed è stata usata già milioni di volte, ecco. Era un piccolo tutorial che volevo mostrare di come si può utilizzare questa funzione di Google per rintracciare, diciamo, addirittura anche le proprie foto. Molto interessante, ad esempio, se qualcuno di voi posta una foto personale o, non so, la foto della bambina o un foto di Photoshop che ha fatto, il copyright o altre procedure per proteggere la foto a volte non funziona, perché basta, la maggior parte delle volte, con il tasto destro scaricare la foto poi con Photoshop cancellare il copyright ed è... capite cos'è, no? Quindi, trovo questo link molto interessante per verificare la autenticità delle foto ad esempio, faccio solo un esempio, se questa foto che vi ho mostrato prima, questa qui la ricarico di nuovo, se questa foto fosse stata mia, la avrei fatta io e dopo me ne sarei accorto che qualcuno l'ha usata impropriamente cioè, mi sarei incazzato come una bestia e avrei fatto valere i miei diritti di copyright per tutti quelli che non lo sanno, ci sono addirittura dei avvocati professionisti che si sono specializzati in questo caso cioè, vanno a vedere, le foto sono tue, non sono tue, possiedi i diritti, se non possiedi i diritti paghi eh, cosa dite? Ah, per una foto, cosa vuoi che sia, saranno 10, 20, 30 euro eh, no, sti cazzi! Una foto, il copyright è molto importante, specialmente per le foto cioè, se uno è un artista, ad esempio questa foto di Photoshop è meravigliosa, insomma e anche per dire altri esempi, una foto di un bel paesaggio o un qualcos'altro di veramente particolare l'interesse si fanno pagare moltissimo, cioè, ti arriva a casa una bella letterina ecco, questa foto non è tua, l'ha usata sulla tua home page su Facebook adesso ci paghi 3-4 mila euro beh, non sono cifre azzardate, succede! quindi, quello che volevo dire, se io avessi fatto questa foto qui e avrei visto che qualcuno l'ha usata impropriamente senza chiedere il permesso sarei andato sicuramente dall'avvocato, avrei fatto valere i miei diritti di copyright e mi farei pagare 3-4-5-6 mila euro, insomma quindi, ragazzi, quello che voglio dire, state attenti quando usate le foto, eh! assicuratevi, ehm, che sono foto che potete usare e se usate foto copiate da internet succede a tutti ehm, si va in cerca di una foto ehm, mi piace, la voglio usare per quel lavoro state attenti ai diritti di copyright perchè, ehm, potete incombra in questi inconvenienti ci sono, ehm, come vi dicevo avvocati specializzati per la ricerca di foto vi arrivano le lettere da pagare 3-4-5 mila euro è una cosa inconveniente con questo, con questo sito si può vedere se la foto che avete voi, che avete i diritti, è già stata usata altre volte insomma, per utilizzare i vostri diritti ehm, potete usare questo sito per dare un'occhiata ehm, cosa volevo dire? per concludere, state attenti a come usate le foto se usate foto, ehm, copiate scrivete dove l'avete presa sotto, in picco, dove neanche non si vede mettete sempre, ehm, foto presa da questo sito o quell'altro chiedete il permesso, ehm, eventualmente se potete usare una foto del genere perchè, internet, come vedete, vede tutto ehm, qualsiasi persona potrebbe dire quella foto lì non è tua, l'hai copiata e in qualche modo potrebbe, ehm, creare problemi quindi, in conclusione, state attenti alle foto che usate qui, ehm, è un sito per controllare l'autenticità dei vostri lavori quindi, se siete bravi in Photoshop e fate delle foto, ehm, postate ad esempio su Facebook o da qualche altro sito o Twitter o che ne so io ogni tanto controllate se la vostra foto è stata copiata ehm, usata da altre parti senza chiedere il vostro permesso perchè, se cose qui si fanno pagare, ehm, un sacco di soldi spero, ehm, di essere stato utile in questa spiegazione l'interessante anche di questo sito è che vi tira fuori la foto che avete caricato e, ehm, vi, ehm, propone anche, ehm, immagini simili guardate qui, ehm, stessa tecnica però è un'altra, un'altra composizione molto interessante anche per, così, per, per giocare trovate una foto, volete fare qualcosa vi, hm, manca la, vi manca l'ispirazione mettete una foto, la caricate e il sito vi propone anche delle foto più o meno simili insomma, per non copiare sempre le stesse cose va bene, vi saluto grazie per l'ascolto, spero di essere stato utile e ci sentiamo alla prossima